Buon pomeriggio a tutti, sono Arturo Iorio, sono qui da SMAO Napoli 2014 per presentarvi il progetto Il Care, il farmacista a portata di app. È nata dall'esperienza sul campo, visto che io faccio il farmacista. È un modo semplice e veloce per poter curare e risolvere quei piccoli problemi che affingono quotidianamente. Molto semplice nell'uso, easy friendly, basta inserire il nome della patologia o la parte del corpo interessata o il nome del principio attivo escerà un elenco di tutte le patologie adesso correlate. Premendo si ha fino a 4 foto di prodotto, le controindicazioni, gli effetti corali, i laterali e la farmacia di zona più vicina. È un progetto nuovo, innovativo, specie perché è user friendly, è molto indirizzato verso l'utente finale. Io penso sempre quando ho fatto questo alla signora Gina, che non ne sa niente di medicina, ma ha un mal di testa reale, immediato, subito, vuole risolverlo. Bene, tramite la foto e il prodotto associa immediatamente la cura al prodotto e con la geolocalizzazione facilmente trova la farmacia di zona di suo riferimento e potersi curare. È progettata già in multilingue, quindi la potete già trovare in inglese. Sono previste il cinese e il russo. Sono qua per ringraziare Smao Napoli che mi ha premiato col premio Lamarck, un premio veramente inaspettato perché non pensavo veniva a Napoli per vincere questo premio, andare a Berlino e in secondo momento andare pure a Milano. Grazie ancora a Smao e buon pomeriggio, veniteci a trovare lo stand C01 Padiglione 6. Arrivederci.